Il virus Zika si sta diffondendo in maniera dirompente. È l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha convocato una riunione d'emergenza per l'1 febbraio, annunciando anche il varo di una task force di livello mondiale. L'OMS ha parlato di livello di allerta estremamente alto e ha annunciato di prevedere fino a 3-4 milioni di possibili contagiati nelle Americhe. In Italia, finora, sono stati rilevati solo 4 casi, tutti relativi a cittadini rientrati dal Brasile. Il virus, se contratto da donne incinte, è sospettato di essere responsabile di malformazioni e danni al sistema nervoso del nascituro e in Brasile si sono registrati oltre 3.000 casi. Questi neonati hanno gravi lesioni nel cervello e oggi, da un punto di vista scientifico, non è ancora noto come il virus abbia raggiunto la cellula nervosa in formazione e quali siano le cellule in questione che tocca. Lo spiega Gubbio Soares, ricercatore di virologia dell'Università di Bahia, che ha identificato per la prima volta il virus in Brasile. I casi di microcefalia continuano ad aumentare. Il virus trova un ambiente ideale in paesi dal clima caldo come il Brasile. La zanzara non resiste molto a basse temperature. Credo che avremo a che fare con Zika a lungo, dice Soares. Sarà endemico perché ora che si è installato continuerà a essere presente. Il rischio è che il virus si diffonda un po' ovunque e i giochi olimpici di Rio quest'estate sono un'occasione temuta da tutti. Non parlerei proprio di minaccia, ma se il governo non prende le misure necessarie per combatterlo, il rischio di esportarlo sale, spiega il ricercatore brasiliano. Il presidente Rousseff ha fatto appello a tutta la società brasiliana per collaborare all'eliminazione della zanzara che trasporta il virus. Negli esseri umani Zika provoca una malattia correlata per certi versi alla dengue e alla febbre gialla. Il virus è trasmesso da diverse specie di zanzare come l'Hedes egipti e la zanzara tigre.